dei gruppi di lavoro sulla proposta di legge sulla riforma del patrocino a spese dello Stato che fa parte di un iter molto articolato di modifica di questa legge, di commissione del patrocino a spese dello Stato e gruppo di lavoro a cui avevo già partecipato e oggi ci si è divisi in gruppi per i singoli argomenti che vengono affrontati. Secondo me è un passo molto importante perché effettivamente è una legge molto vecchia che va modificata e che presenta molte criticità ma il lavoro che stiamo portando avanti, sta portando avanti il CNF è molto importante, fondamentale e nel suo complesso avrà, mi auguro, effetti positivi sia per la tutela ovviamente in primis dei cittadini e anche per garanzia a favore dell'avvocatura che si dedica al patrocino a spese dello Stato. Oggi pomeriggio ci sarà invece un seminario pratico sull'applicazione, le regolamentazioni, le criticità e positività dell'ecocompenso questa legge fortemente voluta in primis dal CNF e da tutti noi, compresa l'Unione Nazionale e Camere Civili che è sempre dichiarata favorevole, che ha delle criticità ma mette dei paletti sicuramente a favore dell'avvocatura.